È stata la mia prima doppietta con i grandi e sono felicissimo per averla fatta in questo momento che ne avevamo bisogno. Abbiamo raggiunto metà dell'opera. Gol, il primo con un perfetto inserimento su invito sublime di Gregorio Cirrete e la seconda sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È stata la domenica della Fidelisandria che grazie alla vittoria casalinga per 2-0 con il Gragnano ha ritrovato la via del successo dopo tre pareggi consecutivi. Ha collezionato il non risultato utile di fila nel campionato di Serie D e ha fatto nuovamente eruzione in zona play-off nel girone H. È stata anche e soprattutto però la domenica di Mirko Bortoletti, autore della prima doppietta in carriera nel calcio dei grandi, inevitabile di conseguenza. Una molteplice dedica per le due segnature. Una ai tifosi perché in casa ci aiutano sempre, l'altra vorrei dedicarla a mio zio Roberto e alla mia famiglia. L'Andria può godersi, dopo 12 giornate di questo campionato, una classifica ricca di spunti soddisfacenti. Noi non guardiamo la classifica e abbiamo il nostro obiettivo che è la salvezza e siamo già a metà dell'opera. Che campionato è questo girone H di Serie D? È difficilissimo, non me lo aspettavo così, non ci avevo mai giocato ed è un campionato che non sai veramente la domenica se fai punti o se non li fai, non c'è niente di garantito. E tra gli spunti di rilievo offerti dalla classifica della Fidelis c'è anche la solidità difensiva alla meno perforata del raggruppamento con sette centri al passivo. Io sono orgoglioso della mia difesa e posso solo fare i complimenti a Gregory, a Cipolletta e a Forte perché sono dei difensori fantastici. Sorprende in positivo la posizione ingraduatoria dei biancazzurri di Alessandro Potenza ancora di più, alla luce delle numerose assenze per infortunio delle ultime settimane, una su tutte, quella del capitano Gaetano Iannini. Iannini è un simbolo della squadra, è il capitano. Noi siamo stati bravi sia i giovani sia i grandi che sono rimasti a farci capire qual era l'importanza di questi punti che stiamo strappando e così è stato. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. E' un centrocampista moderno Bortoletti, classe 98, piedi buoni, tanta corsa e capacità di inserimento. Ecco a chi si ispira il calciatore biancazzurro. Il mio idolo è Pirlo ma io mi ispiro più a Pocobà perché per caratteristiche magari assomiglio più a lui. Domenica si apre il mese di dicembre della Fidelis scuola trasferta di Fasano. Sarà il primo appuntamento dopo la ripartura del mercato, sarà il primo atto del segmento conclusivo di girone d'andata che vedrà l'Andria sino alla sosta di fine anno, in campo altre quattro volte in casa con il Nola e con la Sarmese, in campo avverso con il Gravina e ancora degli Ulivi contro il team Altamura. Si capirà tutto in questo mese qua e si giocherà un campionato secondo me diverso, quello del ritorno.